Momenti di terrore per il sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri, uscito illeso da un tremendo incidente stradale verificatosi sulla statale 133 che collega Caltanissetta a Delia. Bancheri, che svolge l'attività di funzionario dell'ASP Nissena, stava rientrando in paese alla fine della giornata di lavoro, quando a un certo punto ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata finendo fuoristrada. Il tutto probabilmente a causa dell'asfalto reso viscito dalla pioggia caduta abbondantemente nei giorni scorsi sul territorio della provincia. Bancheri non ha fortunatamente riportato ferite serie ed è riuscito ad uscire dall'abitacolo spingendo il lunotto con i piedi e poi è stato medicato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Il sindaco di Delia ha commentato la vicenda sui social sostenendo di sentirsi un miracolato.